buonasera sono riccardo sturla vogadri sono master instructor del paddy sono testimonial mares da più di vent'anni uso mares da quando sono nato e non ho mai avuto problemi tanti mi chiedono ma tu che cosa usi sott'acqua quale attrezzatura hai esattamente che modelli questa è la maschera la xwire modello 41 cioè articolo 41 10 68 costa 86 euro prezzo di listino io uso due maschere una è la xwire e l'altra è la xvision adesso descrivo la xwire la xwire è una nuova maschera oggi siamo al 20 aprile 2022 vedete io lo uso sempre bianche e nere facendo immersione con gli squali ho sempre questo effetto bianco e nero e come vedete un sistema di bloccaggio delle lenti nuovo il sistema di regolazione diverso molto morbido dinamico sistema di bloccaggio per metterci quello snorkel è molto morbida dietro per la testata una bella maschera con questa mi trovo benissimo faccio sempre un po e un po a un immersione uso questa un immersione uso la la xvision è detta perfetta spero di vedervi in acqua presto con gli squali ciao ciao